Questa notte Heidi Baci si è ritirata dal grande fratello dopo aver avuto una conversazione telefonica con i genitori. La ragazza di origini albanesi è uscita visibilmente sconvolta dall'incontro con suo padre, che l'ha accusata di aver intrapreso un rapporto con un uomo più grande di lui, e che per questo sua madre ha smesso di guardarla in televisione. Chiamata in confessionale per parlare al telefono con i propri genitori, Heidi Baci da lì non è più uscita. A dare l'annuncio è stata Letizia Petris su richiesta degli autori, è andata via, non ha potuto salutare nessuno, manderà un messaggio più avanti. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Mi hanno chiamato in confessionale per dirmelo e mi hanno chiesto di dirlo a tutti voi. Mi hanno chiesto di dirvelo in maniera tranquilla e di non fare una cosa di stato. Io ho già pianto in confessionale. Avrà modo di mandarci un video messaggio a tempo debito. È uscita dal confessionale. Poco dopo è stato anche il profilo social della trasmissione ad annunciarlo, per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la casa di grande fratello.